E' proprio quella di Apple TV Apple TV che è arrivata in realtà relativamente da poco nella vita di tutti noi Con un proprio catalogo di originali che piano piano si sta rimpolpando mese dopo mese Ovviamente non se ne è parlato tantissimo anche perché Apple TV comunque è un servizio a pagamento Si può vedere esclusivamente se non mi sbaglio sui device Apple O attualmente le nuove Smart TV o il nuovo Fire Stick vi permette comunque di avere l'app di Apple TV E' un po' complicata Diciamo che devono un attimo trovare la loro dimensione quelli dell'Apple Che vogliono fare sempre un po' i fighetti Però ecco da questo punto di vista devono trovare un pochino la loro dimensione Anche perché ne deve andare tutto a vantaggio di serie TV molto molto belle Che abbiamo visto di recente appunto sui loro schermi In particolar modo in questa puntata di Beach Stream parliamo finalmente di The Morning Show Che è una serie meravigliosa che ho scoperto tra virgolette troppo tardi E' arrivata verso il tardo 2019 ed obiettivamente è stata una delle serie più seguite E più amate che ha fatto anche una certa incetta di premi durante la stagione appunto Dei premi per quanto riguarda tutto il circuito delle serie TV Allora, ciao a tutti giovani Una tizia diceva che sarà disponibile anche sulle smart TV LG In realtà pure sulle nuove Samsung Su LG avrà in esclusiva perché Apple TV Sull'Apple TV proprio sul suo smart coso Ha il Dolby Atmos e il Dolby Surround Che verrà dato in esclusiva a LG Una certa tizia di Solotech aveva detto questo Se non ricordo male Potrei anche sbagliare Potrei anche sbagliare Comunque sì, la trovate su tutte le televisioni dal 2018 in poi Tutte ora Samsung, le smart TV Samsung LG dal 2018 in poi E sul nuovo Fair Stick E basta Credo che Apple TV non la potete vedere E poi vabbè ovviamente se avete un iMac o un Mac Tra l'altro se avete comprato di recente Diciamo da settembre in poi Un qualsiasi dispositivo Della Apple Ve lo regalano Vi regalano un anno di Apple TV Se non è un anno Regia, confermami se è un anno Ricordo un anno Dovrebbe essere Un anno Allora Quindi oggi sono super contenta Perché ve ne volevo veramente Veramente parlare tantissimo Parliamo di The Morning Show Che è questa Una delle primissime serie Prodotte Distribuite da Apple TV Era arrivata il primo novembre Quindi io ho iniziato a vederla a gennaio Divorandola tra l'altro Divorandola non è il termine giusto Perché avrei voluto vederla In veramente in BG watching Non l'ho fatto perché abbiamo deciso di gustarcela Sono una decina di episodi Durano all'incirca un'oretta E per quanto sei affamato Di andare oltre la visione Ovviamente È veramente una serie Talmente tanto bella Talmente tanto ben fatta Sotto molteplici punti di vista Che andremo ovviamente A vedere oggi Che è quasi un peccato Guardarsela in BG watching È proprio bella Da assaporare Da scoprire Non sono andata oltre I due episodi Al giorno Ce ne guardavamo veramente Quasi uno la sera Per chiudere in bellezza La giornata O per dare l'unico risvolto positivo Della giornata Vabbè Un gennaio E un febbraio Particolarmente impegnativi Per questo 2020 Allora The Morning Show La serie ovviamente È basata Su fatti Eventi Di completa Invenzione Ma che ovviamente Affondano le loro radici Su una situazione Sociale Se vogliamo Anche culturale Anzi Vogliamo assolutamente Culturale Che stiamo vivendo Negli ultimi anni Che ha coinvolto Tutto lo show business Cinematografico E televisivo Anzi È partita proprio Dallo show business Cinematografico E televisivo Con il famoso Caso Weinstein Quindi Tutti i casi Di molestie Che sono venuti a galla E che oggi Conosciamo Con il nome Del Me Too C'è un problema Però quando si parla Di Me Too Purtroppo Come spesso Accade Ed è un vero peccato Perché poi si manda Perdonatemi il francese In vacca Tutto quello Che di buono Ci poteva Ci poteva essere Gli estremismi Non portano mai Niente di buono E quindi Si è abusato No? Parlando di molestie Secondo me La parola abusata È giusta Si è abusato Moltissimo Poi del movimento Me Too Anche nel modo sbagliato Per non dire Soprattutto nel modo sbagliato Si è inizialmente Nato come un movimento Genuino Giusto Motivational No? Di motivazione Con degli obiettivi Che andavano oltre Poi ovviamente La sfera dello spettacolo Di Hollywood Ma che voleva Volevano riprendere La vita di tutti i giorni In qualsiasi contesto Sociale Lavorativo Familiare Dove appunto Ci sono sempre più vittime Di molestie A violenze E abusi A certo punto A lungo andare Il Me Too Diciamo Che ha creato Una serie di mostri Nonché una vera e propria Caccia alle streghe Finendo come sempre Quelli che sono De veri e propri Processi mediatici E non aspettando mai Che la legge Faccia poi Il suo vero e proprio corso Questo appunto È stato Un Un punto Per non dire Più di un punto A sfavore del Me Too Perché giustamente A certo punto Le persone Hanno iniziato A non crederci più E quindi Ha perso tutto Il suo valore Tant'è che Si finisce sempre Per litigare Ha le femminazzi Ha i maschi così Ha quello così Ha quello colà La caccia alle streghe Appunto Come stavo Dicendo prima E stessa cosa Si è visto tantissimo In diverse serie tv E in diversi film Che hanno iniziato Ad affrontare L'argomento Anche con far Piuttosto Superficiale Per non dire Che ancora peggio Stereotipato Abbiamo iniziato A fare un'enorme Confusione Fra quella Che è la parola Molestie E quella Che è la parola Abuso C'è stato Un abuso Della parola Violenza sessuale O stupro Senza riuscire Poi a definire I limiti Di ognuno Di questi Di ognuno Di questi Contesti Ed è un vero Un vero Un vero peccato Quello che invece Ho apprezzato Da morire E poi soprattutto Si è sempre sentito Una sola campana Quindi c'è stato A un certo punto Questo momento Di enorme imparzialità Che ha creato Inevitabilmente Quello che È uno stato Confusionale Dove poi A e B Si scontrano E non esce Nessuno Vittorioso Anzi Bisognava partire Invece con l'intento Di far migliorare Le cose Giustamente Di far pagare A chi doveva Pagarla Ma soprattutto In modo costruttivo In modo tale Che da non ritrovarsi Più in ambienti Di questo genere Perché poi Il problema Non è solo Chi lo fa Ma è tutto intorno E chi lo copre Chi finge Di non vedere Questa cultura Del silenzio Che in realtà È all'interno Della vita Di ognuno Di noi Che magari Noi stessi Più di una volta Ci siamo ritrovati Di fronte A un abuso Di potere Non deve essere Per forza Sessuale Appunto E abbiamo fatto Finta di niente Per il nostro Tornaconto Personale Della serie Non vedo Non sento Non parlo Non è una roba Di mio interesse Non mi importa Giro la faccia E vado E vado avanti La cosa appunto Molto interessante Del morning show È che parla Proprio di questo Non parla tanto Di vittime E di carnefici Di Violentatori E violentati Ma bensì Di una Società In questo In questo caso Di una vera e propria azienda Che per tanti Tanti e tanti anni Ha chiuso un occhio Per non dire Tutti e due gli occhi Non facendo altro Che portare Ancora di più Avanti Una situazione Di disagio Poi certo In situazioni del genere C'è sempre La vittima sacrificale Che in questo caso Viene aditata Come tu Violentatore Tu Stupratore Che può essere Tanto vero Quanto falso Ma poi alla fine Della giossa Ti rendi conto Che era solo Dobbiamo fare Dobbiamo per forza Sacrificare qualcuno Qualcuno Dalla torre Deve cadere Per salvare Tutta la baracca Quindi ok Le accuse Arrivano A nome di questo Perfetto Noi facciamo fuori Questo Ci comportiamo Bene Profilo basso Testa bassa Mi raccomando Buttiamo Tutta la polvere Sotto al tappeto Ed è come se fosse Come se non fosse Successo niente Ed esattamente Quello che accade In In the morning shoe Dove gli uomini Sono tanto colpevoli Quanto in realtà Sono colpevoli Le donne Ritornando appunto Al discorso Fatto in precedenza Dove ognuno poi agisce Per il proprio Torraconto personale E questa imparzialità Che poi si respira All'interno del The morning shoe Fa di questa serie tv Una serie tv Estremamente innovativa Ma soprattutto Una serie tv Estremamente veritiera Che non cade Nel classico Clichè O nel classico Stereotipo Oltre a fatto Che poi Si poggia sulle spalle Di tre bravissimi Anzi Più di tre Bravissimi interpreti Ma principalmente Su due grandi donne Che sono Jennifer Aniston E Reese Witherspoon Spero di averlo detto bene Oltre a poi Per esempio Steve Carell Che è veramente In un ruolo Strepitoso E meraviglioso E bravissimo Io credo Negli ultimi anni Ho iniziato ad apprezzare Molto di più Carell Nei ruoli seri Piuttosto che Nei ruoli Più Più comici E E E ironici Reese con il suo cucchiaino Esatto 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 È vero È vero È il solo Allora Prima di andare avanti Non vi spoilerò Ovviamente nulla Ma non che ci sia Veramente qualcosa Da spoilerare A parte Un paio di robe Di cui non parleremo Ci vediamo Come sempre Il trailer insieme E poi Andiamo a bomba Sempre che io riesca Sbrogliare Le mie Cuffiette Ok Ce la possiamo fare Ce l'abbiamo fatta Ottimo Allora Eccoci qua Allora It's gonna be a new era For the morning show This is gonna be a new era For the morning show Eight seconds to you Cue her Good morning I'm bringing you Some sad And upsetting news And while I don't know The details Of the allegations She's throwing me Under the bus Mitch Kessler My co-host And partner Of 15 years Was fired today We are facing The biggest crisis In our history My life just ended For no good reason We're in the middle Of an epic rebirth Her sell by date Expired years ago I want you to start Prooming some new people I don't fit the mold What mold is that Any mold Really Your show sucks Thank you It's barely news I want wardrobe tests Screen tests Makeup tests We need a contract Where's legal Ready? I'm ready Most people Want to trust That the person That is telling them About the world Is an honest person Like you Yes Your words spoke to America People are noticing They want more Watching a beloved Woman's breakdown Is timeless American entertainment I just need to be able To control the narrative So that I'm not written Out of it You stole my life You left me in the woods With a pack of wolves You just think I'm gonna do this? This chair could be yours I don't want your job Oh, hi Both The part you guys Never seem to realize Is that you don't have The power anymore And frankly I've let you bozos Handle this long enough We are doing this My way What happened here TV We had a disagreement Ok Allora Questo era Il Appunto Il Il trailer Di The Morning Show Tra l'altro Credo che già dal trailer Si capisca Il livello Di recitazione E interpretazione Di questi Grandi Attori Di questi Grandi interpreti Come diceva prima Piero Tra l'altro C'è anche il dottor Manhattan Ovvero Bill Crudup Che fa uno Poi dei personaggi Fra Corey Ellison Che è uno Dei personaggi Migliori Poi All'interno Della Della serie Su di lui Vi farete un'idea Ma poi Ve ne farete Completamente Un'altra Un personaggio Molto molto interessante Come in realtà Super interessanti Sono i personaggi Della Aniston Che è Alex Levy E di Reese Witherspoon Che è Bradley Jackson Che sono poi Le donne Le due spalle Due generazioni Anche se vogliamo Così diverse A confronto Che poi in realtà Fungeranno Tutte e due Dalle due facce Della medaglia In questo caso Nel campo Del giornalismo Che è un campo Ancora più complicato Quando poi Si parla Di questioni Così delicate Come appunto Molesse sessuali E abusi Di potere Che cos'è Il The Morning Show Il The Morning Show È un classico show Mattutino No che ne so Noi abbiamo Uno mattina E gli americani Ne hanno tantissimo Il classico Buongiorno America Uno di quelli Di quei notiziari Con appunto Due host Molto influenti Conosciuti In diversi anni Di carriera Che fungono un po' Dei genitori Poi Della 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 Borghese Tra l'altro Un'America Ovviamente Molto Censurata Molto Perbenista Con determinati Valori E via Via discorrendo Appunto Cost Di Alex Livi Jennifer Aniston E Steve Carell Mitch Kessler La serie Inizia immediatamente A bomba Con quella Che è la classica Sveglia Delle 3.30 Del mattino Per essere Alle 5 Sul 7 Alle 7 Iniziare ad andare In diretta Quando appunto Alex Viene a scoprire Che Mitch È stato Licenziato In tronco Dopo che Qualcuno È andato Al New York Times A dire Mitch Kessler È un Molestatore Più persone All'interno Del The Morning Show Sono state Molestate Senza neanche Dargli il beneficio Del dubbio Viene E già questo Dovrebbe dirla Lunghissima Viene licenziato In tronco Da lì in poi Appunto Inizia Quella Che la corsa A trovare Un'altra persona Ad affiancare Ad Alex Con un'altra serie Di casini Burrocratici Nel mezzo Tra cui Ovviamente Un'inchiesta Aperta Sulla stessa Società Del The Morning Show Per capire Chi sapeva Di Mitch Quanti avevano Quanti hanno Chiuso un occhio Sul suo comportamento Ovviamente nessuno sapeva niente Tutti i angeli In questa situazione In particolar modo Alex La più ingenua Fra Fra tutti quanti E in contemporanea Appunto Ci viene mostrata La storia Di Bradley Jackson Che così Un po' per Caso Tra virgolette Ma è sempre tutto Molto contestualizzato Incontrerà poi La via Del La via Del The Morning Show Uno appunto Vi stavo dicendo Tutta la serie Viene basata A moltissime Parte Poi da quella Che la miccia Anzi Dalla punta Dell'iceberg Che è quella appunto Rappresentata Da Mitch Kessler E le accuse Mosse Nei suoi confronti Per poi andare A sviscerare Quello che c'è Ben oltre Ogni volta No Si parla sempre In diverse occasioni Abbiamo detto Ci preoccupiamo Tutto Tutti Di quello Che Di quelle Che sono Le conseguenze Ma nessuno Si preoccupa Mai Delle azioni Vere e proprie Siamo tutti bravi A dire agli Oscar Non è stata candidata Nessuna regista donna E poi magari Il problema Non è che non è stata candidata Nessuna regista donna Che obiettivamente Nel 2019 Sono state prodotte Quattro donne In croce Su 250 film Direi che forse Il problema È un attimino Differente Bisognerebbe andare All'origine Della questione Il The Morning Show È proprio questo È un'analisi Sul cercare di arrivare All'origine Della questione Su quante persone Sono realmente Coinvolte E che cosa Si intende Per cultura Del silenzio Soprattutto Cosa Siamo disposti A fare Cosa siamo Su cosa Siamo disposti A tacere A mettere in discussione La nostra etica La nostra morale Per il nostro lavoro Quindi Per tenerci stretto Per carità Quello Che abbiamo ottenuto Facendoci un grande Lavorando E lavorando E lavorando Però appunto Quando poi arriva Qualcuno Che manda in fumo Tutto quanto E Cosa decidi di fare A questo punto Un salto nel vuoto Metti in discussione Tutto quanto Per un bene Più grande Oppure rimani Zitto E reciti La tua parte Come sempre fatto Il The Morning Show Riflette proprio questo Questo aspetto Lo riflette Col personaggio Ovviamente Di Alex Levy Che tra l'altro All'interno Del licenziamento Del suo collega Vede anche Una sua Possibilità Di crescita E di Maggiore Importanza Della sua figura Professionale Dimenticandosi Però a un certo punto Questa è una cosa Che accade spesso Iniziamo tutti Alcuni lavori Spinti dalla passione Dopo anni E anni E anni Abbiamo dimenticato Che cos'è la passione A volte veniamo più spinti Dal desiderio Di fama Di potere Di soldi E via discorrendo Questo è un'altra Delle tematiche Molto belle Molto forti Molto attuali Tra l'altro Affrontata All'interno Del The Morning Show E come vi dicevo Prima Invece la controparte Invece Bradley Jackson Che fuoco vivo E giovane Spigliata Non gliene frega niente Lei è una giornalista Di inchiesta Vera e propria Anzi Da battaglia Sul campo Le combatte Per la Per la libertà E la libertà Di informazioni Informazioni Che devono Essere divulgati Ovviamente Alle persone In questo caso All'America Pur consapevole Che alcune cose Non vengono viste Di buon occhio Pur consapevole Che se in diretta Mondiale Tu dici Ti presenti Dicendo Che Non bisogna Credere Nelle favole Che anche la ragazza La porta accanto Può diventare Presentatrice Del The Morning Show Affermando cose Parlando Di fatti Molto privati E che possono Indignare L'opinione pubblica Perché appunto Magari per un'idea Politica Per una propria Idea morale Non so Per esempio Sull'aborto Cose di questo genere Può mettere in discussione Tanto Bradley Jackson Più delle volte Non si rende conto È talmente Tanto presa Da I suoi ideali Da non rendersi conto Poi Di che strada Intraprendere E accorgendosi Le stesse Che a volte Ecco Anche qui Per la troppa Ambizione Cosa stai mettendo In discussione O meglio Per l'ambizione Di te stessa E della verità Che vuoi che esca A tutti i costi Chi stai sacrificando Perché poi In realtà Come vi dicevo Prima Qua non ci sono Ne vittime Di carnefi Ci sono Esattamente Tutti Sulla stessa Bilancia Pure chi Sembra Essere Immacolato Puro E casto E totalmente Innocente Invece appunto Anche lì Arrivano poi Dei risvolti Che non voglio Definire torbili Semplicemente Quelli che sono Sbagli Che ognuno Di noi Potrebbe commettere All'interno Della sua Esistenza Soprattutto Poi All'interno Di un ambiente Lavorativo Così competitivo Così complesso Com'è in questo caso Il Il giornalismo Quindi La serie Affronta Non solo tutto Il discorso Degli abusi Di potere E degli abusi Sessuali E delle molestie Cerca anche Di far riflettere Su quella Che è la differenza Fra Fra violenza E violenza Ed ha anche Un punto di vista Che magari Il più delle volte Non vuole giustificare Nessuno Assolutamente Anzi Ma da un punto di vista Spesso e volentieri Ignorato Ovvero Noi il più delle volte Abbiamo un certo tipo Di immagine Di violenza La brutalità Di una persona Che si impone Su un'altra persona Però a volte C'è anche Un tipo di violenza Psicologica Differente Dove magari La persona Incriminata Non si rende Nemmeno conto E quasi Involontario Il suo esercitare Un certo tipo Di carisma E di potere Annullando poi La volontà Il sì E il no Di un'altra persona Non rendendosi Nemmeno conto Che quello Da lui fatto Come una carezza Dolce Per qualcun altro Potrebbe invece Rappresentare Un gesto Strano Fuori luogo Che non dovrebbe Esistere In un determinato Tipo di sfera E lo fa Con una certa Con una percezione Completamente Differente Da quelle Che abbiamo visto Nella stessa realtà In altre serie tv O all'interno Del cinema Credo che questo Sia uno degli elementi Più forti Che rende Il The Morning Show Una delle serie Sicuramente più belle Del 2019 Ma secondo me Addirittura Una delle serie Meglio Che meglio Rappresentano La realtà E che meglio Si rapportano Con l'essere umano Degli ultimi anni Oltre ad essere Stata confezionata Divinamente Vi ho già parlato Insomma Degli attori Uno più bravo Dell'altro In particolar modo Secondo me Ovviamente Le punte di diamante Sono La Aniston E la Witherspoon Sono incredibili Veramente Fantastiche Mi ha fatto Molto molto Sorridere Il fatto Che hanno È vero che comunque Jennifer Aniston E Harris Witherspoon Si passano almeno Dieci anni Differenza Ma hanno tentato Comunque Di ringiovanire Il più possibile Harris Witherspoon Per farla sembrare Almeno con Vent'anni Di differenza Poi rispetto Alla Alla Aniston Per farla sembrare Appunto Più giovane Intraprendente È spensierata Anzi Affatto Sono cose Anche abbastanza Logiche Spesso porta Lo stesso Spettatore Ad arrivare A determinate Conclusioni È una serie Che poi Fa riflettere Anche tantissimo Su quanto L'opinione Degli altri La percezione Degli altri Può completamente Influenzare Il nostro modo Di Di pensare Di Di comportarci Di vedere Le stesse Relazioni Non è che tutte Le relazioni Sul posto di lavoro Sono delle relazioni Malate Sono degli abusi Corrispondono Degli abusi È anche bello Come riesce Essere Una serie Che riflette Su uno spaccato Di realtà A 360 gradi Approfondendo Con diverse sfumature Diverse sfaccettature Molte situazioni Differenti Che appunto O nel totale O Tanto nel macro Quanto nel micro Potremmo Trovarci Noi stessi A dover affrontare Questa credo Che sia una Delle cose Migliori All'interno Di The Morning Show Dove faccio Veramente fatica A trovare Qualcosa Che non mi abbia Convinto Appunto A partire Dagli attori Dal cast Dalla storia Da come la storia È stata messa su Dalla struttura Narrativa E anche dalla regia Che ho trovato Estremamente perfetta Lancia anche a favore Della componente musicale La componente sonora Che è ottima Giudì a partire Poi dal Come si chiama Dall'opening E poi appunto Se amate Il giornalismo O comunque Vi incuriosisce È anche molto bello Vi dà anche Un certo tipo Di prospettiva Di come funziona Un programma Di quel tipo Quante persone Vengono Coinvolte Il tipo di preparazione Anche Come questi lavori Poi Ti portino A sacrificare Completamente La tua La tua vita Insomma Io non so Ora Capisco essere Follemente innamorata Del proprio lavoro E io stessa Faccio comunque Un lavoro Che non è un lavoro D'ufficio Dove Non ti siedi Alla tua scrivania Alle 9 Timbri il cartellino E poi ti rialza Alle 18 Non esistono I giorni Della settimana A volte Lavori fino a luna Di notte Lavori anche Il sabato E la domenica Quindi È un concetto Abbastanza comprensibile Al tempo stesso Appunto Parliamo di persone Che ogni giorno Della loro vita Si svegliano Alle 3.30 Del mattino Per girare Un programma Cioè la loro vita Inizia la notte E finisce Quando praticamente Le persone Comuni Iniziano poi A A vivere In In sostanza Quindi è anche Molto interessante Questo tipo Di ragionamento Che viene fatto Su Cosa sacrifici Quindi la famiglia I figli Gli affetti Ed ecco perché Una volta che Ti sei ritrovato A sacrificare tutto Per il tuo lavoro Quando una persona Affonda E tu rischi Di affondare Con quella persona Cerchi di difenderti Realmente Con le unghie E con i denti Quindi È una serie Che vi dà Tutte le carte Praticamente Tutti gli elementi Per poter Entrare In empatia Con ogni personaggio E studiare Quel personaggio Senza mai Giustificarlo Ma provare A comprendere Perché si è comportato In un determinato modo Per poi avere Un puzzle Completo Della Della situazione Un mondo Che ovviamente Vive anche Di favori Favoritismi Di persone Che si conoscono Tutte tra di loro Ma anche lì Sempre per lavoro Io che non lo so Per esempio Si parla Di una giornalista Di un femminile Particolarmente Famosa Che deve tutto Un'altra persona Ma se ti devo Sbugiardare Perché meriti Di essere sbugiardato Soprattutto Nel mio caso Io scrivo Il pezzo Della vita Io scriverò Il prezzo Della vita L'unico favore Che ti posso fare È dire Guarda che sto scrivendo Un pezzo Dove ti sto Per sbugiardare Sappilo Te lo dico già Puoi partire Preparato Però sta succedendo Non te lo sto dicendo Per farmi cambiare idea Semplicemente Per rispetto Nei confronti Alla nostra amicizia Ti dico che Sei in effetti Un pezzo di merda Quindi tanto vale Che ti sbugiardi Però te lo dico prima Rispetto alla nostra E rispetto Della nostra Amicizia Ecco Allora La serie è formata A dieci episodi Un'unica stagione Dovrebbe essere Stata confermata Una seconda stagione Anziché entrata Attualmente In Produzione Ci sono Altri dieci episodi La Witherspoon E la Aniston Sono anche Le produttrici Poi Ovviamente Del Del The Morning Show Di Di questa serie tv Adesso Leggo un po' Di vostri Commenti Così insomma Se c'è qualcos'altro Da dire Lo diciamo Comunque Come diceva Come stavamo dicendo È veramente Una delle serie Più belle Dell'anno passato Ma secondo me È anche una delle serie Più belle Degli ultimi Meglio realizzate Degli ultimi anni Faceva la sorella Di Rachel In France Dove A parte questo Non riuscivo a capire Dove avevo visto L'attore Invece Non riesco a capire Dove L'abbia visto Mark Duplass Chi è Mark Duplass Quello che fa Cheap Il produttore Del The Morning Show Cheap Sì in effetti Pure io Credo di averlo Già visto Ma non mi ricordo dove Good morning America Esatto Buongiollo Buongiollo Grazie comunque Sono passato Da non avere Un cazzo da vedere Ad avere tre serie Sex Education The Morning Show E la ripresa Di Better Call So Beh questo Insomma È il senso Di Binge Stream Quello appunto Di portarvi Ad annullare Completamente La vostra vita sociale E buttarvi A capofitto All'interno Delle serie tv O dei bei film Cerchiamo di parlare Soprattutto Di cose belle Una mattina Con Luca Giorato Interpretato Il Good morning Interpretato Da Kevin Spacey Ovviamente Gli americani L'hanno recensita Dopo aver visto Sulle prime tre episodi Sminuendola Assolutamente Ovviamente Ha avuto Un enorme successo La serie Più in là Col tempo Soprattutto Quando Una serie di premi Sono andati Tutti A loro favore Ma in effetti Gran parte Della critica Come era già Successo a Joker Vi ricordate Quando Joker Arrivato al cinema Perché è un argomento Un tipo di realtà Che rispecchia Assolutamente La realtà americana E' ovvio Che si sentano Tutti tirati In causa E' ovvio Che gli bruci A tutti quanti Il sederino E soprattutto E' una serie Che ti da Un paglio di Sventolate In faccia Di pugni Nello stomaco Che rimani Veramente Così Senza parole Gli americani Sono un popolo Incredibilmente Permaloso Sono un popolo Che non ammette I propri limiti Non possono sbagliare È impossibile E sono incredibilmente Simili ai russi Da questo punto di vista Chissà perché Poi la loro guerra fredda Va avanti Da un sacco di anni E Non possono assolutamente Permettersi di sbagliare Anche se lo sanno In cuor loro Che stanno sbagliando Quindi Quando un film Come Joker Quando una serie tv Come il The Morning Show Gli fa riflettere Sul proprio marcio Sui propri difetti È ovvio che si risentano Tantissimo In particolar modo In questo caso La critica E la stampa Dove evidentemente Si sente ancora di più Tirata in Tirata in causa Domanda Avrà una seconda stagione Una miniserie Ho risposto prima Cecilia Avrà una seconda stagione Di altri dieci episodi Nasce come una serie Ah tra l'altro Nasce proprio Come una serie Da due stagioni Infatti sì La migliore serie dell'anno Secondo me è questa Un telefilm Bellissimo Recitato bene Sono d'accordo Con tutto quello che dici Non ha momenti vuoti Esatto Bravo Ernesto Sono concorde con te Sono entrati Un'empatia con Steve Carell È una roba È una roba assurda È una Come io ve l'ho descritto Non sono andata nello specifico Tu pensi Come puoi entrare In empatia Con Steve Carell Che a quanto pare Da quanto ci è detto È il molestatore È la pecora nera Di tutto questo Ambaradan Vi invito a vedere Il The Morning Show E vi vedrete Come per Come andranno i fatti E poi anche Per un certo tipo Di caratterizzazione Del personaggio Come riuscite Non è che lo giustificate Assolutamente Perché Veramente una serie Dove non riuscite A giustificare Nessuno Neanche il cane Del vicino Non giustificate Proprio Nessuno È impossibile Giustificare qualcuno All'interno di questa serie Ma è estremamente Semplice Entrare in empatia Con loro Anche con un personaggio Come quello di Mitch Kessler Dove appunto In questa storia Dovrebbe Recitare La parte Del Carnefice Dell'uomo nero Dell'uomo cattivo Poi insomma In realtà Di uomini cattivi Ce ne sono Veramente Veramente Tanti Veramente Veramente C'è quasi L'imbarazzo Della scelta Ma poi anche Personaggi Con primare Alcuni sono Veramente Meravigliosi Molto Molto Teneri Poi si sviluppa A un certo punto Si parla Anche del discorso Di come A volte Ci si senta In colpa Perché tante persone Tante donne Ma anche uomini In realtà Non denunciano Mai subito Perché a volte Entra Subentra Il discorso Del Me lo sono meritato Se non ne parlo Non è mai successo Resto zitto Non Non dico niente Poi però È un male Che cresce Che cresce Che cresce dentro Fino a quando Non veniamo Completamente Divorati Completamente Inglobati Dallo schifo Alla fine Dalla frustrazione Dal dolore Dalla sofferenza Che ci portiamo Dentro C'è infatti Questo Exploit Incredibile Verso Arrivando Sulla fine Della serie Che È meraviglioso E dove C'è La vera e propria Presa di coscienza Di tanti Dei personaggi All'interno Del De un warning show Dove capisci Quanto Un'azione Possa avere Una conseguenza Non pesante Ma devastante Per altre persone E come questo Metta poi In bilico Tutto quanto Tutto il castello Che hai costruito Che ti rendi conto Puoi essere Semplicemente Un castello Di carte E quindi Anche Una lieve Brezza Te lo butta giù Come se non fosse Nulla Tocca guardarla Come ho fatto Con il mandorlato È purtroppo Esatto L'unico grosso difetto Ma io credo Che Apple TV Da questo punto di vista Cercherà Di Aggiustare il tiro L'unico vero difetto O forse no Considerando che L'Apple Forse no E che O avete Un modo Per guardarla Quindi Un Un abbonamento Con uno Dei device Apple O appunto Lo stesso affarino La sua stessa Smart TV O una Smart TV O il Fire Stick Di opzioni ce ne sono Per carità Però non sono Certo opzioni Economiche Dice la più economica È il Fire Stick Ecco Fra tutte le altre Che vi ho elencato Oppure In effetti È complicata Da Da guardare È un po' complicata Soprattutto quel cane Continua ad abbagliare Unico difetto Che Non dormono mai Dormo tre ore a notte E fa Non lo facessi O muoio Il giorno tre Sì Infatti No in realtà Quello che stavo dicendo E quello che dicevo prima È una serie Che fa riflettere molto Sul lavoro E su quanto Sei disposto A sacrificare In realtà In realtà Si può guardare Da browser Ma qualsiasi tipo Di browser Piero No Diciamolo Perché questa è Un'ottima informazione Lo puoi guardare Da qualsiasi tipo Oppure se hai Un Ah Cioè ti basta avere Semplicemente L'abbonamento Vabbè Non so chi è Che usi ancora Internet Explorer Spero più nessuno Da Safari Lo puoi guardare Da Safari Se hai Safari Puoi guardarlo Da Safari Praticamente Tutti i miei clienti Vabbè Che brutti clienti Che è Piero Non è colpa tua Se hai dei clienti Di merda Che nessuno Se la prenda Se ho insultato Internet Explorer Solo persona non grata No Uso Age Ecco Quindi no Quindi con Safari Uno lo può Uno anche se ha Windows Però si scarica Come browser Safari Oppure su Chrome Questa cosa Non la sapevo È molto È molto interessante È veramente Molto molto interessante In realtà No di Apple TV Non di Prime Video Prime Video È accessibile ovunque In realtà Di Apple TV Apple TV Plus È vero Che c'è Questo Plus Disney Plus Apple TV Plus Tutti di più sono In effetti Nelle aziende Usano tutti Quel bagaglio Di browser Di Internet Explorer Io non so Come si faccia Ancora a usare Internet Explorer Tra l'altro Mentre una persona Comune Sarà arrivata Al decimo episodio Un'altra persona Che usa Internet Explorer Sta ancora guardando L'opening Ma se apri Dice che non è supportato Quel browser No Non l'hanno Ah Per quanto riguarda Explorer Va bene Quindi a quanto Rispondetemi a questa domanda Senza che continuiamo A temporeggiare Qua Che sembra una pazza Quindi lo si può guardare Da qualsiasi browser Non parte manco Su Internet Explorer Giustamente O solo su Safari Certo Se non avete Un computerino Però vabbè Ci si accontenta Sì Gabriella Grazie Su Chrome Su qualsiasi browser Moderno Quindi in effetti Apple TV Plus Ve lo potete guardare Buono Quanto costa L'abbonamento Che io in effetti Non mi sono documentata Ma avrei dovuto Documentarmi Quindi non avete scuse Ve lo potete guardare Però dovete fare L'abbonamento Non so quanto costi L'abbonamento Tutti questi abbonamenti A un certo punto Veramente spendiamo Non so quanti soldi Per guardare Serie 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 Ah nemmeno 5 euro al mese 5 euro al mese Su tutti i dispositivi Che te pare Buono Ottimo Quindi Allora Apple TV Plus Con la sua roba Con tutti i suoi Con le sue serie E Presto Spero di recuperare The Servant Di prodotto Da Shyamalan E Parlarvi anche di questo Ve lo potete vedere Facendo l'abbonamento Che costa 5 euro O meglio 4 euro 99 Su Su qualsiasi browser A prescindere da Se avete Un altro tipo di dispositivo Se invece Se invece Vi siete comprati Da poco Diciamo da settembre in poi Un nuovo device Della Apple Apple ve lo regala Ve lo dà per un annetto Praticamente Avete un anno Di abbonamento Se non mi sbaglio E Altrimenti Appunto Firestick Nuove smart tv Di ultima generazione Dal 2018 In poi Dovrebbero avere L'app Di Apple tv Altrimenti Direttamente Cosettino Direttamente la sua La smart tv Proprio della Apple E Buonanotte Che tra l'altro Su Apple tv Come giustamente Mi fa notare Ernesto Veramente molto bella C'è Mythic Quest Ravens Bunket Fichissima Se amate il mondo Dei videogiochi E se avete amato Boris Vi consiglio di vederla Perché è veramente Boris però Ambientata all'interno Dell'industria Videoludica Anche quella In realtà è una sitcom Sono nove episodi Da 30 minuti C'è Ciascuno Molto ironica Molto divertente Veramente Va avanti così Come se nulla fosse Ma soprattutto Attraverso la sua Ironia Attraverso il suo sarcasmo Riesce comunque A far luce Su Una Su un'industria Sulle problematiche Di un certo tipo Di industria In particolar modo Sul continuo scontro Che c'è Fra la creatività E il marketing Che non andranno Mai Mai D'accordo Perché se la creatività Pensa quasi esclusivamente Alla qualità Il marketing Giustamente Pensa agli sordi E i soldi Il più delle volte Non si fanno con la qualità Ma con la velocità E la velocità Porta un sacco di Cacca Un sacco di Cacca Va bene giovani Io direi Che Non so se avete ancora Qualche altra curiosità Riguardante Appunto The Morning Show Vi rinvito Secondo me Non se ne è parlato Abbastanza Una serie Meravigliosa E completamente Diversa Da qualsiasi altro Tipo di serie Sull'argomento Film Che avete visto Non è stereotipata E Assolutamente Non cerca Di condannare Nessuno Non giustifica Nessuno E analizza Dei punti di vista Differenti Anche E soprattutto La controparte Maschile Che il più delle volte Non viene appunto Sentita È una serie Estremamente imparziale Incredibilmente Realistica Punta il dito Anche Contro tante donne Che spesso e volentieri Siamo le nostre Peggiori Nemiche E cerca Di analizzare Di definire Cosa si intenda Realmente Per cultura Del silenzio E cosa accade In ambienti Come questi Che poi insomma Sono situazioni Che si possono Tranquillamente Rivedere Anche all'interno Di altri contesti Solo che ovviamente In un contesto Come questo Giornalistico Con una grande società Un enorme show A livello nazionale Non parliamo Dell'Italia Parliamo degli Stati Uniti In America Che sono leggermente Più big Ovviamente La risonanza Mediatica È molto Ma molto Più ampia Ed è una serie Che riflette Incredibilmente Nel modo giusto I nostri tempi Ma appunto Non lo fa Abusando poi Di Di quello Che poteva essere Invece un movimento Giusto Ma che secondo me Non è stato Finalizzato Nel migliore dei modi Come è stato appunto Come è tuttora Il Me Too Il Me Too Allora Va bene belli Noi ci vediamo Nuovamente Qui su Lega Nerd Giovedì Con Anteprima Live Molto probabilmente Parleremo Di Lupin Terzo Che arriverà Dalla prossima Settimana Al cinema Binge Stream Torna nuovamente Settimana prossima E vi anticipo Già Che sicuramente Parleremo Di Hunters Su Amazon Prime Video Con Al Pacino Non vedo l'ora Grazie per essere stati con me Se non l'avete ancora fatto Seguite Lega Nerd Abbonatevi al canale Seguite il nostro sito Con tutte le notizie News Articoli Approfondimenti Aggiornati E iscrivetevi Al nostro Lega Nerd Social Club Il gruppo privato Su Facebook Dove insomma Tutte le varie discussioni Continuano Continuano E stracontinuano Vi siamo come sempre Un bacione Ciao 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 Grazie a tutti